La Chiesa ci dice che le stimmate sono il segno della passione e dell'amore di Dio per gli uomini. Sarà così? Nel giorno in cui celebriamo le stimmate ricevute da San Francesco, noi iniziamo un viaggio che vi porta dritti alla Verna, con la nostra Antonella Ventre. Antonella, buongiorno! Sì, Lucia, eccoci in collegamento dal Santuario della Verna. Siamo alle mie spalle, c'è il sasso spicco, ma in realtà durante la mattinata capiremo un po' i luoghi di questo santuario così mistico, perché in realtà arrivando qui tutti quanti dicono che si entra in un modo e si esce in un altro. Noi percorreremo la mattinata proprio cercando di capire cosa c'è dietro l'episodio delle stimmate di San Francesco. Quindi ci rivediamo dopo, ci porteremo anche all'interno della chiesetta delle stimmate, proprio qui al Santuario della Verna. Grazie Antonella, richiedici la linea come sempre, quando vuoi noi anche qui in studio. Cercheremo di fare un viaggio che poi ci porterà anche fino a Padre Pio. Qui intanto rimaniamo così abbracciati a Francesco con Padre Massimo Fusarelli, Ministro Provinciale dei Francescani per il Lazio e per l'Abruzzo. Padre Massimo, sediamoci. Intanto auguri, si dice anche da voi, per questo nuovo incarico. Che devo dire, non è proprio una passeggiatina. So che a San Francesco Arriba c'è già un po' di nostalgia, perché tra poco lascerai questa comunità, ma speriamo che con il cuore ci resti vicino sempre. Senti Padre Massimo, le stimmate nell'immaginario collettivo sono delle piaghe, delle ferite, qualcosa che immediatamente evoca e porta a un senso del dolore. E come si sposa questo concetto dell'amore invece di Dio? Innanzitutto le stimmate hanno suscitato, in primo luogo in San Francesco stesso, un senso di stupore. San Bonaventura, descrivendoci questo evento misterioso, ci dice che Francesco era stupito davanti alla visione di Cristo, il procifisso, il serafino, che gli appariva da una parte sereno e bellissimo e dall'altro sofferente. E Francesco non sapeva come mettere insieme questi due aspetti. E poi quello che è successo a Francesco stesso, questa intima partecipazione all'amore, alla sofferenza di Cristo, che gli ha provocato grande gioia, grande letizia, una profonda esperienza di amore e insieme il dolore. Come tenere insieme amore e dolore, letizia e sofferenza, diciamo che è un po' il mistero delle stimmate. Ecco sì, pensando alle stimmate diciamo come è possibile, vere piaghe, come sono, ma prima di farci queste domande un po' pratiche diciamo, bisogna entrare in questo mistero di amore e di dolore, che è quello anche che ha suscitato tante domande nei contemporanei di Francesco. Il primo a faticare e a credere è stato Papa Gregorio IX, che lo ha canonizzato, grande amico di Francesco, ma all'inizio il Pontefice si chiedeva, ma com'è possibile, ma che cosa è? Ecco, bisogna entrare un po' nel cuore di Francesco per entrare nel mistero delle stimmate. Senti, Padre Massimo, prendiamo la larga prima di entrare in quel cuore. Mettiamoci dall'altra parte. Le stimmate sono un dono di Dio che intravede in quel cuore un'anima santa, si devono meritare, te lo dico con un linguaggio molto umano, sono un premio o cosa? Francesco fa l'esperienza delle stimmate nel momento di maggiore debolezza della sua vita. Noi abbiamo l'immaginetta di Francesco, giovane, sorridente, carino. Il Francesco del 1224 che sale a Laverna è un uomo sfigurato dalle malattie. Il suo volto non ha più tracce di giovinezza, ci vede poco, è provato nel corpo e anche nello spirito. È un Francesco che ha rinunciato al servizio di Ministro Generale dell'Ordine, ha preso in un certo senso le distanze dalla Fraternità che segue un'altra strada. E Francesco anche è dentro un tormento, è la mia creatura, è la volontà di Dio. E Francesco nel pieno delle stimmate ci riportano i Fioretti, un testo tardivo ma poetico e che entra un po' nell'anima di Francesco. Sulla Verna Francesco si chiede chi sei tu, Signore, e chi sono io? Quindi è un Francesco forse non tormentato, ma un Francesco sofferente quello che riceve le stimmate. Quindi Francesco ha meritato le stimmate, le ha accolte nel momento di più grande debolezza della sua vita perché noi non meritiamo i doni di Dio, li riceviamo, è Lui che ci rende capaci di riceverli. Con il senno di poi, quello è un'espressione dell'avvicinanza di Dio, è una carezza di Dio, la stimmata alla fine, è un modo di Dio per dire io ci sono nonostante questi dubbi o cosa? Francesco ha chiesto alla Verna di sentire nella sua carne, da una parte, il dolore del crocifisso e dall'altra, l'amore del crocifisso. Quindi a Francesco non basta più il pensiero, il sentimento, l'emozione, vuole sentire nella sua carne. Quindi l'amicizia con Cristo ha raggiunto per lui una tale forza, una tale verità e vivacità, da volerla sentire nella sua carne e la vogliamo chiamare così, la risposta di Dio all'amore di Francesco è questo grande tocco d'amore. Ti faccio sentire nella mia carne, ti ferisco e ti lascio queste ferite aperte perché l'amore è una ferita aperta. Quindi stimmate come sintesi proprio di questo amore al tempo stesso del dolore provato da Cristo. Vogliamo tornare alla Verna? Tra l'altro già intravedo delle immagini bellissime Serena Cirillo e Antonella Ventre. Antonella. Sì Lucia, siamo scesi all'interno posso dire del sasso spicco ma adesso capiamo di che si tratta con Fran Michele che ci accoglie. Buongiorno Fran Michele. Buongiorno e benvenuti. Dicevo, il sasso spicco è una parte del santuario della Verna quello che ci porta proprio all'interno della spiritualità di San Francesco se così vogliamo dire. Sì, questo luogo ci parla della presenza di San Francesco della sua venuta e soprattutto del suo desiderio di nascondimento. Come vedete siamo all'interno di una grotta a cielo aperto e in queste cavità San Francesco veniva a meditare la passione di Cristo. Non a caso siamo a la Verna lo diciamo da stamattina oggi è la festa delle stimmate di San Francesco ma San Francesco diceva sempre andava diciamo alla ricerca delle insenature della roccia proprio perché le assimilava al costato di Cristo? Aveva un desiderio molto forte di fare esperienza anche fisicamente della realtà dello spirito e quindi queste spaccature questi anfratti gli parlavano del nascondimento della piaga del costato sembra quasi che avesse il desiderio di nascondersi vicino a quel cuore amoroso di Gesù. E non a caso qui riceve il dono più grande però se volessimo raccontare riassumere un po' l'esperienza generale di Francesco qui al di là dell'episodio delle stimmate a cui arriveremo poi tra poco. Qui a Laverna fa esperienza di ascolto ascolto della parola di Dio ascolto di se stesso e mette in pratica quello che ha ascoltato traducendolo in momenti di preghiera e di vita. Laverna parla anche di una riconciliazione con se stessi e con Dio. Noi Lucia ci salutiamo con le campane che rintoccano ci rivediamo tra pochissimo perché ci portiamo anche ai piedi del crocifisso tanto cara a San Francesco quello di San Damiano ringraziamo Fran Michele a te la linea. Grazie grazie Fran Michele grazie alla nostra Antonella che intanto rivedere quei luoghi sulle tue parole ci sembra veramente di star lì senti Padre Massimo forse forse una domanda stupida ma fanno veramente male le stimmate? Beh io non lo so quali sono i racconti che si hanno anche nella letteratura nei racconti della biografia di Francesco? La descrizione che fanno i biografi pensiamo sulle testimonianze dei compagni di Francesco ci parlano non di fori non di buchi nella carne ma di una escrescenza carnosa a forma di chiodo per cui nella cavità interna della mano c'era come la punta ritorta e nella parte superiore delle mani come dei piedi la capocchia del chiodo ma come una escrescenza carnosa nera dice Bonaventura come su bianca superficie e invece la ferita del costato era aperta e grondava sangue dava sangue chiaramente quindi sono come chiodi scolpiti della stessa carne di Francesco non è un corpo estraneo è la sua carne che ha preso la forma dell'amato perché questo era il desiderio di Francesco tanto specchiarsi in Cristo e tanto vedere se stesso in lui da diventare come l'amato del resto l'amore è così ci rende simili a chi amiamo non uguali ma simili quindi anche l'espressione fisica però ricordiamo che Francesco ha nascosto fino alla morte le stimmate quindi Francesco non ha affatto il santo stimmatizzato che si faceva pubblicità ha nascosto molto gelosamente le stimmate perché? perché era il suo segreto con il suo signore e perché lui stesso è stato sorpreso da questo evento che con lui si è realizzato per la prima volta nella storia è il primo santo stimmatizzato è il primo santo stimmatizzato per cui anche questo ci dice qualcosa di straordinario della sua similitudine a Cristo senti padre Massimo ma Dio le concede per gli altri o per se stessi mi spiego perché gli altri possano vedere e capire fino a che punto quell'amore barra dolore arrivi oppure per quale motivo i doni di Dio sono gratuiti quindi non hanno un'immediata efficienza hanno un'efficacia Francesco in questo modo è arrivato al culmine al livello più profondo della sua comunione della sua amicizia con Cristo Buonaventura il suo biografo ci dice che per l'incendio dello spirito Francesco è unito a Cristo in questo modo in questo modo Francesco è stato fecondo per tutti certo è stato un annuncio del Vangelo per tutti certo è come dire l'abbraccio con l'ebroso con cui Francesco è iniziato diventa pieno in questo abbraccio con il crocifisso in fondo è lo stesso abbraccio il crocifisso di San Damiano per cui il Signore le concede per la persona perché ha amicizia il Signore ha un rapporto d'amore unico con ciascuno di noi se lo fa per me se lo fa per te lo fa per tutti non c'è divisione è roba per santi non è mai un regalo individuale è roba solo per santi o per gli uomini che sanno amare no io penso che tutti portano le stimmate di Cristo se non fisicamente ma dentro quante ferite quanto dolore purtroppo ogni giorno la cronaca ce lo dice no? quante sofferenze quante domande che restano senza risposta anche in questi giorni morti violente incomprensione discriminazione le stimmate credo le stimmate di chi è stato malato di covid-19 di chi porta i segni della solitudine di lunghe ospedalizzazioni riuscire a vivere tutto questo come mistero intreccio di dolore e amore questo è un dono che dobbiamo chiedere nel vero senso della parola allora lo facciamo ai piedi di quel crocifisso padre Massimo perché Antonella ci ha promesso di portarci proprio davanti al crocifisso di San Damiano Antonella sempre da Laverna Sì Lucia ci stiamo incamminando pian piano verso la chiesetta dell'estimmate però prima vogliamo fare un passaggio vogliamo fare un viaggio fino ad Assisi ai piedi del crocifisso di San Damiano sappiamo che il crocifisso di San Damiano è tanto caro a San Francesco ma la cosa particolare è che viene rappresentato ferito ma forte il Cristo proprio come Francesco nell'episodio dell'estimmate in cui vede dolore ma amore andiamo ad Assisi con questo servizio Francesco veniva da una grande delusione era partito con una compagnia di ventura per il sud Italia per esercitarsi nelle armi ma la prima tappa Spoleto è entrata in crisi non si trovava nel gruppo c'erano altre motivazioni e di notte ebbe quel sogno dove una voce gli diceva Francesco dove guadagni di più servendo un servo o un gran signore servendo un gran signore perché allora lasci il signore e segui il servo che devo fare torna da Assisi e ti sarà detto allora nelle settimane successive Francesco andava per le chiese a pregare davanti a questo crocifisso a San Damiano ebbe la risposta alla sua domanda Signore cosa vuoi che io faccia Francesco gli disse il signore va e restaura la mia chiesa che come vedi è in rovina lo farò volentieri rispose Francesco e restaurò tre chiese San Damiano la porzione quella è un'altra ma capì subito che la chiesa era le persone di fatti questo è il tempo in cui si incontrò con i lebrosi e li visitava e ne ebbe conforto lui stesso e fu questa l'incontro con i lebrosi fu un altro punto fondamentale che l'aiutarono a decidere della propria vita è un dipinto teologico in contemporanea è rappresentata e la morte e la risurrezione infatti Cristo è vivo gli occhi aperti dritto è un po' quello che dice San Giovanni nell'Apocalisse vidi un agnello in piedi come morto se è morto sarebbe esteso però è in piedi perché è risorto di fatti potremmo dire che sulla croce Gesù già risorge perché è lì che sconfigge la morte e il male del mondo il peccato e da Sisi torniamo qui alla Verna e ci spostiamo per il prossimo collegamento Lucia proprio davanti alla pietra che ancora si conserva dove San Francesco ricevette le stimmate ci rivediamo tra pochissimo in fondo a questo corridoio quindi andiamo lì e ci vediamo tra poco e noi ti aspettiamo Antonella grazie di averci portato ai piedi di quel crocifisso padre Massimo perché l'uomo di oggi fa fatica a vedere l'amore dietro e oltre quel dolore e soprattutto come le stimmate chiamano ancora amore l'uomo di oggi io penso l'uomo di qualsiasi epoca di sempre il dolore è un'esperienza umana così profonda radicale che chiaramente il primo nostro istinto di reazione è fermarci al dolore lo sentiamo ci fa male è la realtà che ci sembra più reale attraversarlo non aggirarlo non sorpassarlo ma attraversarlo e scoprire dentro questo frutto che è anche amaro un seme dolce l'amore è la fatica io penso però che più persone di quelle che pensiamo o anche noi se non lo pensiamo facciamo questa esperienza anche attraverso prove faticose trovare però un incontro un sorriso una relazione qualcosa che inizia è che a volte il dolore diventa un'esperienza così avvolgente che non vediamo oltre ecco fino a giungere al limite della depressione entriamo in un buco nero e non riusciamo a uscirne ecco Francesco ha vissuto questa tentazione qualcuno ha scritto Francesco arriva a Laverna nel tempo della grande tentazione della sua vita ma quello che ho fatto viene veramente da Dio cosa vuoi Signore che io faccia come se l'è chiesto all'inizio davanti al crocifisso di San Damiano se lo chiede a Laverna davanti al crocifisso vivo il Signore non è che gli risponde gli ha fatto di nuovo attraversare la sua espedienza dolorosa ormai Francesco è più grande è segnato anche dalla malattia fisica oltre che da questa sofferenza interiore ed è solo accettando di attraversare il suo dolore che a Francesco è aperto un orizzonte nuovo però attenzione che dopo le stimmate non è che Francesco non soffre più anzi soffre di più fisicamente oltre che tutto il resto però sicuramente a Laverna Francesco ha vissuto come una sorta di pacificazione di riconciliazione di queste tensioni che lo avevano addirittura consumato allora perché l'uomo di oggi cioè l'uomo di ogni epoca fatica a trovare nel dolore il frutto dell'amore è perché siamo fatti così è perché è il di più della fede ad aprirci a questa possibilità credo che non è impossibile e non lo facciamo da soli ecco abbiamo bisogno di altri che ci aiutino ad fare questo attraversamento da soli non ce la facciamo e quelle stimmate lì restano a ricordarcelo vero padre Massimo? e quelle stimmate ce lo ricordano padre Massimo Fusarelli grazie auguri nuovo provinciale dei frati minori del Lazio e dell'Abruzzo mi raccomando e fatecelo capire davvero anche con la vostra testimonianza come da quel da quel dolore non si resti imprigionati se c'è quell'amore grazie veramente di cuore grazie